benvenuti nel canale meli made in sud come avrete letto dal titolo oggi ci ritroviamo nel terzo appuntamento per parlare di un altro prodotto presente che fa parte della linea amo essere eco fior di magnolia che troviamo da eurospin prima di iniziare vi ricordo che mi trovate anche su instagram con il nick meli made in sud trattino in basso official come promesso parliamo di questa acqua micellare bio con certificazione icea della linea amo essere eco a triplazione con estratto di magnolia succo di aloe ed estratto di rosa da nascena formulato per ridurre al minimo il rischio di allergie dermatologicamente testato flacone 50 per cento da plastica riciclata è un flacone da 200 ml per un pao di 12 mesi è prodotto da un'azienda italiana è prodotto dalla cosmo project il prezzo del prodotto è di 2 euro e 49 si utilizza con le mani o meglio l'azienda dice che si può applicare direttamente sulle mani o al di sopra di un dischetto io ho provato entrambi i metodi in realtà con le mani non l'ho mai fatto ma ecco secondo me non bisogna sconvolgersi più di tanto perché stiamo parlando di una soluzione schiumogena è una sorta di detergente l'acqua micellare quindi si può tranquillamente mettere al di sopra delle mani un po come faremmo con un classico detergente per il viso solo che essendo sotto forma di acqua acqua micellare sotto forma di un prodotto liquido ci viene più difficile ma più che altro a livello mentale fare questo semplice gesto per una questione di pura praticità io preferisco applicare l'acqua micellare non solo questa ma l'acqua micellare in generale al di sopra di un panno struccante anche perché con il panno struccante riesco a sprecare molto meno prodotto non solo dell'acqua micellare ma riesco a non utilizzare una gran quantità di dischetti qualcuno me lo chiederà il panno lo lavo all'interno della lavatrice eseguo un classico lavaggio a 60 gradi non solo non metto solo il panno struccante all'interno della lavatrice quando devo effettuare un lavaggio a 60 gradi metto il panno in microfibra lo stesso panno che utilizzo per struccarmi o per rimuovere esempio il burro struccante quanto riguarda la profumazione e floreale è una profumazione floreale ricorda molto l'acqua di rose della roberts ma il profumo personalmente non mi fa impazzire mi ricorda leggermente la puzza dei fiori quando sono passiti ecco lo dico proprio papale papale non è proprio quella la profumazione di primo impatto sentite la fragranza di rosa ma dopo un po' che ce l'ho sotto il naso mi ricorda la profumazione dei fiori secchi quindi la profumazione non mi fa impazzire ma dato che ha un ottimo prezzo ha un'ottima formulazione ed è ottimo per tutti i tipi di pelle soprattutto le pelli molto sensibili e soprattutto per chi non vuole o non può spendere una determinata cifra magari una cifra più alta abbiamo detto 2 euro e 49 quindi dai 2 50 in su si può tranquillamente sorvolare anche perché stiamo parlando di un prodotto che viene risciacquato non è un prodotto che ha di cui la fragranza resta al di sopra della nostra pelle questo prodotto può fare al caso nostro vale la pena di acquistarlo o meno andiamo a leggere e individuare i vari ingredienti barra attivi presenti all'interno della formulazione oltre all'estratto di magnolia l'estratto di succo di aloe ed estratto di rosa damascena cosa è presente all'interno troviamo il decil glucoside ha un potere schiumogeno e questo aiuta a rendere la pelle morbida e riduce il potenziale di irritazione di altri tensioattivi troviamo il citrato che ha una funzione acida contribuisce a un equilibrio acido base ottimale troviamo inoltre l'alcol fenetilico dona l'aroma floreale caratteristico si trova in diversi oli essenziali tra cui quelli di rosa garofano e giacinto troviamo un tensioattivo delicato un tensioattivo anfotero quindi stiamo parlando di un agente schiumogeno troviamo il pantenolo l'acido citrico estratto di melissa ha proprietà idratanti ottimo ragion per cui spesso lo troviamo nei prodotti antietà e riparatori esso ha proprietà antinfiammatorie su pelli irritate o sensibili abbiamo visto che quest'acqua in micellare è formulata per tutti i tipi di pelle anche per le pelli più sensibili e delicate noi abbiamo parlato del suo potere struccante barra potere lavante devo dire che è un ottimo prodotto strucca molto bene ma devo fare anche una precisazione non utilizzando trucco waterproof quindi trucco a lunga durata se non qualche matita labbra se non per qualche matita occhi non posso estendere il mio giudizio anche per quanto riguarda la rimozione del trucco waterproof anche se visto che non è scritto sulla confezione credo che non svolga un'azione particolarmente struccante è un'acqua micellare delicata non c'è la specifica waterproof quindi non credo che sia un prodotto specifico buono soddisfacente per rimuovere questa tipologia di makeup è un'acqua micellare delicata quindi va a struccare a rimuovere il makeup leggero se utilizziamo regolarmente un makeup leggero è un ottimo prodotto struccante senza irritare la pelle senza creare nessun tipo di fastidio proprio perché la sua formulazione è estremamente delicata tuttavia se utilizzate fondotinta basi molto grasse molto pesanti potete abbinare all'acqua micellare il panno struccante quindi il panno in microfibra così andiamo a potenziare la formulazione abbiamo l'acqua struccante che va a rimuovere il makeup più ci affidiamo al potere struccante del panno in microfibra il panno in microfibra rimuove il makeup anche da solo con l'aggiunta dell'acqua micellare andiamo a potenziare il panno struccante ma anche l'acqua micellare lo consiglio a tutte quelle persone che hanno la pelle estremamente delicata la pelle estremamente sensibile non vogliono o non possono spendere di più rispetto a questo prezzo quindi rispetto ai 2 euro e 49 e a quelle persone che applicano pochi prodotti al di sopra del viso mi raccomando dopo aver applicato il prodotto sulla pelle andiamo a detergere accuratamente la pelle questo va a rimuovere il makeup successivamente vi consiglio di utilizzare scusate un detergente per il viso e poi passare alla vostra normale normale abituale skin care routine crema siero contorno occhi eccetera eccetera fatemi sapere se avete provato questo prodotto lasciate il vostro feedback spero di essere stata utile anche inconsapevolmente vi ricordo che mi trovate anche su instagram con nick meli maden sud trattino in basso official e per il prossimo appuntamento della linea amo essere eco fior di magnolia che troviamo da euro spin analizzeremo la formulazione del bagno doccia non mi ricordo sia un bagno doccia un bagno schiuma o un doccia schiuma vabbè comunque un prodotto per lavare il corpo come sempre un bacio un abbraccio un darallino dalla vostra meli maden sud